Buongiorno a tutte ragazze, oggi farò un video su tutte le mie cove per il telefono il telefono che ho è il Noto 3, quindi si parla di un telefono uscito mi pare 3-4 anni fa è possibile ed è questo qui, esattamente, quindi questo è il mio telefono ho messo assolutamente la plaque stichetta in vetro perché mi sta cadendo fisso soprattutto nell'ultimo periodo così almeno non c'è il rischio che si rompa lo schermo allora, a parte che vi faccio vedere il mio salva schermo che è questo praticamente è quello di Harry Potter con Hogwarts, ecco scritto ovviamente Always quindi assolutamente per quello stile potteriano e noterete che quasi tutte le cover che vi mostrerò sono quasi tutte cover potteriane quindi che riguardano Harry Potter detto questo inizierò da quelle che non sono potteriane allora, la prima che vi faccio vedere è questa qui carinissima, praticamente ha tutti i guffetti ed è morbida, quindi è una di quelle più comode perché si rompe difficilmente e poi comunque è comodissima anche da mettere poi spiritosa con tutti i guffetti e questa mi è piaciuta molto poi questa cover qui che mi piace un pochettino più chic, diciamo, più sobria perché c'ha solamente i fierellini e anche questa è morbida, è comoda comoda poi quest'altra che vi faccio vedere è l'ultima, sempre morbida, appunto in tipo silicone è questa con i palloncini di Up con la casetta questa mi era piaciuta tantissimo e l'ho presa appena l'ho vista quindi queste qui sono le uniche morbide che ho adesso invece inizio con le mie cover preferite che sono quelle che utilizzo molto spesso e sono quelle appunto riguardanti Harry Potter la prima che vi faccio vedere è anche la prima che mi è arrivata perché sono tutte cover che mi sono arrivate direttamente da AliExpress che è un sito che vende un sacco di oggetti oggettistica, roba da vestire appunto ho preso anche questo vestito che vedrete direttamente nel prossimo video quindi un po' di tutto io ho comprato queste cover che vengono una cavolata 2 euro, 2,50 euro all'una troverete cover di tutti i tipi, tutti i tipi di telefoni tutti i tipi comunque di disegni e di tutte particolari per chi poi fosse interessato anche a quelle tipo di Victoria Secrets ci sono anche quelle tipo imitazione comunque che sono molto molto simili e costano comunque una cavolata e poi soprattutto per la maggior parte non ci sono spese di spedizione quindi questo ci piace lo stesso allora iniziamo con la primissima cover che mi è arrivata che è questa qui è praticamente la cover platform 9,75 quindi praticamente è il biglietto per andare ad Hogwarts questa è lo stesso carinissima ci sta benissimo col telefono è comoda comoda e all'interno è nera ve la faccio vedere bene facciamo passare anche l'ambulanza yeah poi la prossima che vi faccio vedere invece è questa che è un pochettino più particolare perché c'ha tutti i doni della morte e poi il... come si chiamano gli occhialini di Harry Potter quindi questa lo stesso carinissima poi la prossima che vi faccio vedere è la mappa del malandrino tutte queste sono rigide a proposito sono un po' più scomode perché se il telefono cade in una maniera brutta si possono anche rompere infatti questa parte qua da me si è proprio rotta quella stanghetta che c'era qui di protezione beh questa parte fortunatamente no comunque la parte di dietro è fatta così ed è della mappa del malandrino bellissima anche questa tutta è presa da AliExpress comunque e poi ci sono le ultime due che mi sono arrivate esattamente oggi allora la prima che vi faccio vedere è questa è stupenda ragazzi veramente c'ha tutti i disegnini con i personaggi di Harry Potter con il simbolo dei doni poi c'è Hagrid, Silent, Ron, Hermione c'è addirittura Luna, Neville e poi ovviamente Harry quindi questa è veramente una cover stupenda particolare e poi quest'altra cover che diciamo che è proprio forse è la mia preferita mi è arrivata stamattina io contentissima praticamente è la stessa identica lo stesso identico disegno aspettate ve lo faccio vedere del mio salvaschermo quindi è identico giusto per essere in tema e quindi mi sa che ce la metto anche subito così la scioro eccola qua quindi questa qui è la cover stupenda che troverete diciamo appunto nel sito io vi riconsiglio comunque di prendere le cover su questo sito perché sono belle e poi soprattutto sono fatte bene dovete aspettare però qualcosa come due mesetti prima di riceverle perché comunque vengono da fuori la maggior parte vengono dalla Turchia dalla Cina da appunto Bangkok molte poi Thailandia cioè un po' di tutto vengono vengono da tutte le parti del mondo in ogni caso ve lo dirà direttamente anche il sito quando vi arriverà più o meno potete tracciarlo il pacco allora spero comunque che le cover vi siano piaciute questo è stato veramente un mini video vi mando un bacione grandissimo se avete qualche altro video richiesta mandatemi un messaggio mandatemi un messaggio qui su Facebook su Instagram dove volete voi vi mando un bacione grande ragazzi mua